C'è uno, no? Quella soffidanzata. Che la soffidanzata gli fa? Dice, guarda, è ora che inizi a... Cioè io voglio conoscere la tua famiglia. Secondo me la mia famiglia non è d'accordo sul nostro rapporto. Ma perché? Scusa, ma chi si credono d'essere? Ma chi sono loro per dire questo? La mia moglie e la mia figliola.